bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine del mio canale e dei miei video è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie oggi amici a grande richiesta vi porto una storia di sopravvivenza tempo fa avevo fatto una rubrica sulle storie di sopravvivenza gente che era riuscita a sopravvivere dopo aver passato settimane in mare in mare aperto da soli gente che si era salvata dopo essere finita nel cratere di un vulcano e insomma storie allegre del genere che poi sono allegre in un certo senso perché hanno tutte un lieto fine e mi piace raccontare queste storie perché ci ricordano quanto il nostro corpo e la nostra mente siano forti e resilienti quando serve perché penso davvero sia una cosa di cui a volte ci dimentichiamo o comunque io personalmente a volte è come se avessi paura di essere fatta di vetro di rompermi subito sia fisicamente che mentalmente ecco queste storie ci dimostrano che non è così abbiamo tutti una forza nascosta enorme e bellissima ma prima di cominciare amici questo sponsor cade veramente a pennello oggi abbiamo uno sponsor molto speciale sono felicissima e orgogliosa di parlarvi di uno bravo se mi seguite qui ma soprattutto su instagram dove vi parlo un po di più di me e della mia vita sapete quanto io ci tenga a parlare di benessere psicologico ma soprattutto di quanto sia importante per me l'andare in terapia io personalmente ci vado da sempre e ricevo spessissimo domande da parte vostra in cui mi chiedete informazioni a riguardo e condividete con me le vostre paure come si fa a trovare lo psicologo giusto e se mi accorgo che lo psicologo che ho scelto non va bene per me e se non posso permettermelo più volte io vi ho già consigliato uno bravo in passato prima della nostra collaborazione perché un servizio che conosco molto bene uno bravo è un servizio di psicologia online che mette in contatto ogni paziente con lo psicologo adatto a sé tra tutti i loro professionisti che sono più di 3000 sulla base ovviamente delle sue esigenze reali come vi dicevo ho notato che una delle paure maggiori di chi vorrebbe approcciarsi alla psicoterapia è la paura di non trovare lo psicologo giusto e per questo che uno bravo mette a disposizione un questionario da compilare mirato a capire le tue esigenze e questo proprio per trovare il terapeuta più adatto a te ovviamente tra i loro professionisti inoltre il primo incontro conoscitivo è gratuito andare in terapia per me secondo la mia esperienza è qualcosa di bellissimo a me ha letteralmente cambiato la vita è una cosa che so oggi e che se potessi direi all'elisa del passato è che non bisogna aspettare l'ultimo momento per rivolgersi ad un professionista non bisogna aspettare di esplodere o di stare così male da non vedere altra via d'uscita andare in terapia può essere utile ad ognuno di noi non bisogna per forza avere un disturbo o appunto stare malissimo si può andare in terapia anche solo per conoscerci meglio o per migliorarci per essere consapevoli di alcune dinamiche nostre così che le nostre frustrazioni non debbano per forza pesare sugli altri o su noi stessi la terapia amici è uno strumento bellissimo vi auguro di iniziare un percorso e di approfittare dei servizi che offre uno bravo vi auguro di imparare a sfruttare al meglio questo stupendo strumento inoltre con il mio codice promo elisa 10 avrete il 10 per cento di sconto sulla prima seduta a pagamento con uno bravo vi lascio come sempre il link sotto nell'info box del video prego non c'è di che e adesso torniamo alla storia di oggi oggi amici vi parlo di una donna di nome debora scaling kylie e di un uomo di nome brad cavano che sono sopravvissuti ad una situazione che amici neanche nei film davvero cioè il film lo squalo in confronto per debora e brad sarebbe stata una passeggiata al parco praticamente e questa storia si svolge per lo più sulle barche e vi ho detto qualche video fa della mia fobia delle barche quindi sappiate che io soffrirò molto nel raccontarvi questa vicenda sento già il mal di mare che sale dunque debora scaling kylie nasce il 21 gennaio del 1958 a truck morton in texas già da una giovanissima età debora ha una grande attrazione verso il mare verso l'oceano e inizia ad appassionarsi agli sport acquatici inizia a fare vela appunto già da una giovane età e poi una volta adulta inizia a lavorare come membro dell'equipaggio sugli yacht nel 1981 pensate che addirittura debora è diventata la prima donna americana a completare la wheat bread round the world race lavorando come cuoca a bordo dello yacht sudafricano xargo questa wheat bread round the world race è stata poi rinominata ocean race e sarebbe una regata intorno al mondo su una barca a vela che si tiene ogni tre o quattro anni dal 1973 nell'ottobre del 1982 debora viene assunta come membro dell'equipaggio su uno yacht a vela di 18 metri di nome trash man che era l'imbarcazione di un magnate del texas che voleva che fosse riportato in florida che era il luogo in cui lo teneva durante la stagione invernale e aveva assunto un equipaggio appunto per farlo questo viaggio doveva durare sei giorni con partenza al porto di bar nel main e con arrivo al porto di fort lauderdale appunto in florida l'equipaggio è formato dal capitano dell'imbarcazione john lippott la sua ragazza meg mooney e poi c'erano un ragazzo inglese di nome mark adams la nostra debora scaling che tra loro tra l'altro era la più esperta e infine un ragazzo di nome brad cavano questo equipaggio non aveva mai lavorato insieme era la prima volta che si incontrava e debora racconta che la prima cosa che nota del capitano john lippott e che amava festeggiare qualsiasi cosa o per dirla in altri termini ogni scusa era buona per farsi una birra insomma john lippott beveva continuamente la sua ragazza meg mooney che appunto il capitano si era portato con sé non era assolutamente esperta non era un marinaio anzi lei aveva deciso di andare con loro per approfittare del sole del mare della barca insomma aveva preso quel viaggio come una scusa per farsi una piccola vacanza brad era il più giovane dell'equipaggio aveva 21 anni e veniva da una famiglia di marinai era sopravvissuto al suo primo uragano in barca quando era ancora nell'utero di sua madre e suo padre gli aveva insegnato come si guida una barca già da una giovanissima età la famiglia di brad da fuori sembrava una famiglia perfetta avevano una bella casa stavano abbastanza bene economicamente ma come spesso succede da dentro le cose non erano esattamente così il padre di brad infatti era un alcolizzato e spesso e volentieri abusava sia psicologicamente sia fisicamente dei suoi figli ma nonostante questo brad desiderava l'approvazione di suo padre più di ogni altra cosa al mondo ed era stato proprio quello il motivo per cui nella vita aveva scelto di fare il marinaio sentiva che guidare le barche portare le barche oddio non so come si dica e farlo bene gli avrebbe fatto ottenere il rispetto di suo padre brad aveva conosciuto debora attraverso sua sorella la sorella di lui di brad e quando debora aveva implorato brad di entrare a far parte dell'equipaggio dello yacht trashman perché appunto il comandante era un alcolizzato brad aveva accettato senza pensarci due volte anche perché debora era molto conosciuta in quel mondo brad aveva portato con sé anche un suo amico mark adams anche lui un marinaio perché avevano bisogno di più mani esperte possibili in quanto questo yacht avrebbe comunque navigato in mare aperto con vento forte onde questo mark adams a quanto pare però non era una persona molto piacevole debora racconta che era molto irritante molto maschilista e ogni volta che apriva bocca infastidiva qualcuno ma nonostante questo l'equipaggio trova il modo di andare d'accordo erano tutti entusiasti del viaggio e così lo yacht trashman parte in un giorno dell'ottobre del 1982 e in realtà non ho trovato il giorno esatto della loro partenza ma so che era ottobre il primo giorno va tutto benissimo il tempo era perfetto c'era il sole l'acqua era calma ma quella notte tutto cambia all'improvviso si trovano nel golfo del messico a largo della costa della carolina del nord quando una tempesta si forma dal nulla una tempesta che non era assolutamente prevista l'acqua era un'improvviso l'acqua era un'improvviso l'acqua era divertente l'acqua era divertente non si era molto meglio che era proprio allora normalmente se fosse un'esplosione si arriva e si arriva e si arriva e si è finita ma questo non era un'esplosione questo era qualcosa che era un'improvviso di montaggio la barca inizia ad andare su e giù per le onde che erano così tanto alte che Deborah descrive la sensazione come andare sulle montagne russe la barca praticamente saliva 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 su queste onde e poi cadeva giù in discesa fortissimo il capitano nel bel mezzo della notte chiaramente butta giù dal letto sia Deborah sia Brad che stavano dormendo perché la sua ragazza Meg a causa del mare grosso si era fatta male praticamente Meg si trovava sul ponte per qualche assurdo motivo e a causa di un'onda era stata scaraventata per terra e si era infortunata aveva sbattuto molto forte la schiena nella zona dei reni e stavano già iniziando a venirle fuori dei grossi lividi neri nel frattempo al timone della barca c'era il simpatico Mark Adams che a detta di Deborah era ubriaco marcio stava bevendo tantissimo e si comportava quasi come se fosse tutto un gioco su questa barca pare avessero tutti un po' un problema con l'alcol chiaramente la situazione era molto seria le vele della barca si erano completamente strappate a causa del forte vento quindi il capitano tenta di accendere il motore della barca ma non appena tenta di avviarlo dal motore inizia a uscire del fumo il motore era rotto e chiaramente io non me ne intendo di barche ma da quello che ho letto da quello che ho capito il motore faceva sì che si ricaricassero le batterie della barca un po' come nelle automobili immagino quindi senza motore le batterie della barca si sarebbero scaricate presto e a quel punto non avrebbero più potuto usare per esempio la radio per chiedere aiuto quindi immaginatevi questa barca senza vele senza motore che galleggia in mezzo all'oceano sbattuta di qua e di là da queste onde allucinanti che non accennavano a fermarsi in mezzo a questa tempesta violentissima tropicale provano ovviamente a chiedere aiuto mentre hanno ancora la radio funzionante e persino qui Mark, il nostro simpatico Mark, si arrabbia non vuole che si chiami aiuto la vedeva quasi come una sconfitta, come un fallimento perché a detta sua solo le femminucce chiamavano aiuto dalle barche ma al capitano di Mark non frega niente anche perché la sua fidanzata era ferita e l'unica cosa che voleva era portarla a casa dalla radio qualcuno risponde la guardia costiera loro dalla barca gli forniscono la posizione e a questo punto l'intero equipaggio prova un senso di sollievo ovviamente, un senso di sicurezza dato dal fatto che la guardia costiera stava andando ad aiutarli senza vele e senza motore non possono fare altro che aspettare e cercare di fare qualche ora di sonno ma la tempesta è sempre più forte il vento è sempre più forte la barca continua ad essere lanciata contro le onde e addirittura in uno di questi impatti si rompono tutti i vetri delle finestre e ondate di acqua iniziano ad entrare nell'imbarcazione quindi a questo punto, amici, la barca sta letteralmente per affondare e affondava molto velocemente il capitano inizia ad urlare alla radio Mayday, Mayday, stiamo affondando, stiamo affondando e a questo punto l'equipaggio deve abbandonare la nave deve mettersi in salvo buttano quindi in acqua due scialuppe di salvataggio che erano tipo dei gommoni gonfiabili ma uno di questi, gettato in acqua da Mark a causa di una folata di vento fortissima gli viene praticamente strappato dalle mani e vola via e ritrovarla al buio e in mezzo a quella tempesta sarebbe stato impossibile quindi perdono una delle due uniche scialuppe che avevano per non perdere anche l'altra tra tutti i membri dell'equipaggio che ormai si trovano in acqua si aggrappano alla scialuppa e stanno lì aggrappati cercando di tenerla ferma guardando lo yacht trashman che ormai era praticamente affondato del tutto portandosi dietro anche tutti i loro viveri i vestiti, i kit del pronto soccorso così come anche quelle pistole lanciarazzi per le emergenze insomma tutto quello che gli serviva per sopravvivere stava affondando i cinque membri dell'equipaggio rimangono aggrappati a quel gommone per tutta la notte lo yacht era ormai completamente affondato e Deborah descrive la sensazione di vedere l'ultimo pezzettino dello yacht affondare andare sott'acqua come la sensazione di solitudine più devastante che abbia mai provato nella sua vita comunque a questo punto devono sopravvivere in qualche modo la temperatura dell'acqua era gelida e dovevano trovare un modo per ripararsi almeno dal vento altrimenti sarebbero morti di ipotermia allora a Deborah viene un'idea invece di salire sopra il gommone si sarebbero infilati sotto cioè il gommone era capovolto e loro si infilavano sotto così almeno sarebbero stati al riparo dal vento e dalla pioggia tutti lo fanno tutti si infilano sotto il gommone tranne Meg Meg la fidanzata del capitano ha molta difficoltà un po' perché era ferita e un po' perché non era esperta come gli altri quindi era ancora più terrorizzata e in preda al panico e inoltre soffriva di claustrofobia quindi il pensiero di infilarsi sotto un gommone in mezzo all'oceano non era il top per lei quindi lei rimane fuori mentre invece gli altri sotto al gommone riescono anche a mettersi in una posizione tale da scaldarsi un po' cerco di spiegarvelo in modo chiaro ma non è molto facile comunque Brad prende una delle corde del gommone e la passa da un lato all'altro così da potercisi in qualche modo sdraiare sopra in questo modo riusciva a stare un po' più fuori dall'acqua ma allo stesso tempo riparato sotto al gommone e gli altri riescono a mettersi tipo sdraiati un po' sopra di lui o comunque tutti molto vicini così da appunto usare il calore dei loro corpi per non andare in ipotermia passata la prima notte decidono di girare il gommone così da salirci sopra e così da farci salire sopra soprattutto Meg che era quella che più di tutti stava facendo fatica a stare in acqua ma nel tirare Meg sopra il gommone si fa male agitandosi ha praticamente sbattuto la gamba contro qualcosa del gommone che le squarcia la gamba cioè le fa un taglio piuttosto profondo che inizia ovviamente a sanguinare e se c'è qualcosa che abbiamo imparato dalla maggior parte dei film ambientati in mare è che mai e poi mai devi sanguinare in mare aperto perché diventi una calamità vivente per gli squali a questo punto ci sono Meg il capitano Lippoth e Brad sopra il gommone mentre Deborah e Mark invece sono in acqua aggrappati al gommone perché paradossalmente lì sentivano meno freddo ad un certo punto il simpatico Mark inizia a lamentarsi con Deborah accusandola di dargli dei calci le dice smettila di darmi dei calci ma Deborah non gli stava tirando nessun calcio e quando infila la testa sott'acqua per capire che cosa stesse succedendo vede proprio sotto di loro un branco di squali Deborah e Mark risalgono velocemente sul gommone e si accorgono che decine e decine di squali avevano circondato la loro imbarcazione Deborah racconta che c'erano squali dappertutto e di non aver mai visto così tanti squali nella sua vita in nessuno dei suoi viaggi in mare intorno al mondo e io pensavo, fisch! e poi all'interno di un è venuto molto vicino e ho realizzato che c'erano c'erano centri di gommone erano tutti i suoi erano tutti i suoi e non mi raccomando due o tre mi raccomando 10, 20 erano tutti i suoi erano tutti i suoi non ho mai visto così tanti gommone in mia vita non in mia entire trip al mondo il mare era ancora molto mosso e la paura di tutti era che un'onda potesse capovolgere il gommone così da fargli cadere letteralmente in pasto agli squali quindi Brad decide di provare a stabilizzare l'imbarcazione praticamente lancia in acqua dei pezzi di gomma non so esattamente cosa fossero comunque dei pezzi del gommone legati ad una corda così da bilanciare l'imbarcazione e non farla muovere più così tanto ma appena getta questo pezzo di gomma in acqua uno squalo lo afferra afferra questo coso di gomma e inizia a tirarselo dietro e questo per farvi capire quanto erano forti questi squali cioè erano grandi e forti abbastanza da tirarsi dietro un gommone con sopra 5 persone comunque in qualche modo riescono a sopravvivere al primo giorno e presto arriva la seconda notte l'equipaggio non mangiava ne beveva da quasi due giorni e siccome pioveva continuamente almeno tentavano di bere l'acqua piovana ma Brad racconta che il vento era così tanto forte che non ci riuscivano cioè sentiva solo il vento gelido che al contrario gli seccava ancora di più la bocca ad un certo punto durante la notte vedono una lucetta minuscola all'orizzonte era una nave ma purtroppo era troppo lontana e loro erano un minuscolo puntino in mezzo all'oceano di notte al buio più completo e chiaramente nessuno li ha visti e la nave è andata via siamo al terzo giorno i 5 sono sempre più disidratati sempre più affamati le loro ferite si stanno iniziando ad infettare anche perché il fondo del gommone aveva praticamente uno strato di acqua di acquetta salmastra sporca tra urina e sangue e insomma in quelle condizioni la speranza che la guardia costiera arrivi a salvarli e che riesca a trovarli inizia pian piano a spegnersi tutti tra l'altro iniziano a sviluppare questa infezione da stafilococco un'infezione batterica che porta molto fastidio molto dolore e ovviamente quella che viene colpita di più è Meg la sua ferita alla gamba è ormai completamente infetta e la fa stare sempre più male Meg stava lentamente morendo sotto gli occhi dei suoi compagni a questo punto Deborah racconta che si erano formate delle alleanze non so come dire delle partnership ben precise spinti proprio dall'istinto di sopravvivenza quindi il gruppo iniziava a dividersi Deborah e Brad formano una coppia in cui si giurano di guardarsi le spalle a vicenda nel caso in cui la situazione degenerasse e qualcuno del gruppo avesse voluto per assurdo uccidere Brad Deborah avrebbe dato la vita per proteggerlo e viceversa Deborah racconta che sentiva che questo legame con Brad le serviva per andare avanti come se fosse una specie di ragione per continuare a rimanere in vita se perdiamo questo bond poi ci siamo perduti e è ciò che manterrà tutti noi vivi quindi guardare per te e tu guardare per me io avrei fatto il mio meglio per prenderli fuori perché Brad era il mio partner in survival e non l'avevo lasciare arriva la terza notte Brad racconta che a causa della fame e della sete e dei dolori iniziano proprio ad avere dei deliri delle allucinazioni infatti Mark e il comandante Lippoth ad un certo punto iniziano a bere l'acqua del mare iniziano a bere tantissima acqua del mare che è una cosa che assolutamente non si deve fare l'acqua del mare come sappiamo è molto salata e questo porta primo il tuo corpo a disidratarsi ancora di più cosa molto pericolosa soprattutto nel loro caso dato che erano già tutti gravemente disidratati e in più se bevuta in quantità abbondante potrebbe proprio far collassare i reni Deborah era sicura che tutta quell'acqua di mare che avevano bevuto avrebbe portato Mark e Lippoth ad avere dei deliri delle allucinazioni molto presto e infatti così è stato i due iniziano presto ad avere allucinazioni a dire cose senza senso a vedere la terra vicino a loro e durante una di queste allucinazioni il capitano Lippoth prende e salta giù dal gommone salta in acqua gli altri provano a dirgli di tornare su di tornare sul gommone che il mare era pieno di squali ma Lippoth inizia a nuotare e ad allontanarsi e gli altri sono anche troppo deboli per costringerlo a tornare indietro infatti ad un certo punto dal gommone sentono solo un urlo straziante provenire da Lippoth e subito dopo il silenzio Deborah racconta che erano tutti senza fiato senza parole dove la fidanzata di Lippoth Meg è riuscita solo a dire he's gone cioè non c'è più è andato gli squali se lo erano presi nel giro di pochi secondi Lippoth era morto la sua ragazza Meg ovviamente piangeva ma non aveva neanche le forze per singhiozzare era talmente malata e debole ma il nostro simpatico Mark a quel punto che cosa fa vabbè palesemente ancora in preda ai deliri va da Meg e come racconta Deborah le dice ehi bella mi sembra arrivato il momento che io e te facciamo sesso ok Mark ma subito dopo amici anche lui anche Mark per qualche strano motivo salta in acqua inizia a dire che doveva andare in macchina lui vedeva la sua macchina a causa delle allucinazioni e salta in acqua Deborah e Brad provano a dirgli di risalire su che Lippoth era appena stato mangiato dagli squali ma Mark non ragionava più e all'improvviso uno squalo si tira giù anche lui e inizia amici a mangiarselo proprio sotto il gommone Deborah racconta che mentre lo squalo attaccava Mark sbatteva dava dei forti colpi sotto al loro gommone quindi esattamente sotto di loro ovviamente a questo punto gli squali hanno capito che su quel gommone c'era un sacco di cibo per loro quindi tornano a circondare l'imbarcazione e gli sbattono contro di continuo come se stessero tentando di ribaltare la il gommone arriva la quarta notte a questo punto sono rimasti sul gommone solo Brad Deborah e Meg ma durante questa notte Deborah viene svegliata da da dei lamenti di Meg Meg emetteva dei suoni che diventavano sempre più forti sempre più forti finché ad un certo punto letteralmente perde la testa e salta addosso a Brad lo aggredisce violentemente Brad la spinge via la spinge dall'altro lato del gommone e a quel punto Meg inizia a muovere le mani in modi strani Deborah dice che le muoveva come se fosse una ballerina di flamenco e poi aveva iniziato a parlare ma aveva iniziato a parlare delle lingue sconosciute e Deborah racconta che era chiaro ai suoi occhi che Meg era molto vicina alla morte stava morendo infatti quando il sole del quinto giorno sorge Meg era morta a questo punto Brad addirittura propone a Deborah di mangiarsela non mangiavano da cinque giorni e forse dovevano trovare un modo per mangiarsi Meg ma Deborah chiaramente si rifiuta banalmente anche solo perché Meg era molto malata quindi il suo sangue era infetto la sua pelle era infetta quindi mangiarla sarebbe stato letale ma anche più disgustoso di quanto già non sia disgustoso anche solo il pensiero di mangiarsi un altro essere umano quindi alla fine decidono di gettarla in mare le tolgono tutti i vestiti le tolgono i gioielli così da poterli dare alla sua famiglia qualora Brad e Deborah fossero sopravvissuti e poi fanno un piccolo rito un piccolo funerale prima di spingerla giù in acqua subito dopo averla spinta in acqua Deborah e Brad raccontano di essersi subito messi a dormire così che se gli squali l'avessero attaccata loro non avrebbero sentito e visto niente al loro risveglio si rendono conto di sentirsi sempre più male e questo tra le varie cose perché erano sempre sdraiati in quella acquetta sudicia sul fondo del gommone che come vi ho detto prima aveva dentro di tutto aveva dentro urina sangue pus proveniente dalle infezioni Meg ci era morta dentro insomma dovevano lavare il gommone dovevano svuotarlo e dovevano farlo senza farsi mangiare dagli squali Deborah e Brad iniziano quindi a tentare di ribaltare l'imbarcazione quel tanto che bastava per svuotarla ma nel farlo purtroppo Brad cade in acqua Brad era troppo debole per tirarsi su e Deborah a quel punto va nel panico era anche lei troppo debole per aiutarlo quindi non riusciva più a farlo salire e praticamente si siede dal lato opposto del gommone e inizia a piangere va totalmente nel panico e tutto questo mentre Brad era aggrappato al gommone che provava a salire con tutte le sue forze fortunatamente però Brad ce la fa da solo racconta che in quel momento ha pensato solo che si trattasse di vita o di morte e riesce a risalire sul gommone e a questo punto ovviamente è furioso con Deborah che lo stava lasciando morire ma non appena si riprende un attimo dallo spavento e guarda all'orizzonte vede una nave una nave che stava andando verso di loro e questa volta amici la nave era molto vicina c'erano delle persone sul ponte che effettivamente li avevano visti e stavano andando lì a salvarli Brad e Deborah iniziano ad urlare a sbracciarsi e Deborah si tuffa in acqua e inizia a nuotare verso di loro e Brad la segue i marinai di questa nave che erano russi li raccolgono letteralmente dall'acqua e una volta saliti sul ponte della nave Brad e Deborah si prendono per mano e tirano un sospiro di sollievo erano vivi ed erano in salvo e non mi importa non mi importa dove ero andato non mi importa chi erano erano ieri erano lì e Brad era lì e eravamo andati Deborah e Brad avevano passato cinque giorni in mezzo all'oceano e avevano visto i loro compagni venire mangiati dagli squali uno ad uno e tra l'altro il loro gommone a causa della forte corrente si era allontanato di ben 225 km da dove il loro yacht era affondato sono stati per cinque giorni proprio nel bel mezzo dell'oceano atlantico il gommone oltretutto non aveva nessuna luce quindi nessuno avrebbe mai potuto vederlo ma la cosa più strana amici è che vi ricordate la chiamata alla guardia costiera che il capitano Lippoth era riuscito a fare prima che la barca affondasse ecco quando gli è stato chiesto alla guardia costiera perché non avessero mai effettuato le ricerche perché la guardia costiera non è mai andata in loro soccorso loro hanno risposto che avevano iniziato le ricerche ma poi le hanno interrotte perché dopo quella chiamata di aiuto ne avevano ricevuta un'altra dopo un po' che gli diceva che lo yacht trashman non aveva più bisogno di aiuto anzi era riuscito ad arrivare alla terraferma tutto intero e tutti stavano bene e ad oggi non si sa chi abbia effettuato quella telefonata anche se anche se se posso darvi la mia umilissima opinione io non so se ci credo cioè chi può aver fatto quella telefonata nessuno obiettivamente solo loro sapevano di stare naufragando secondo me potrebbe essere che la guardia costiera abbia fatto qualche casino ripeto questo mio pensiero magari non hanno mai effettuato le ricerche alcuni dicono che si siano dimenticati e quando poi è venuto fuori il casino si saranno giustificati dicendo no guardate che una persona misteriosa ci ha chiamati senza dirci chi fosse ci ha detto di star tranquilli di non cercarli oppure oppure è stato Mark il simpatico Mark che pensava fosse la femminucce chiamare la guardia costiera non si sa amici non non si sa e non si saprà mai comunque una volta su quella nave russa l'equipaggio fornisce i due sopravvissuti vestiti asciutti delle cure per le loro ferite caffè caldo con zucchero e vodka ovviamente la vodka non può mai mancare su una nave russa ovviamente vengono portati all'ospedale il più in fretta possibile e lì i dottori gli comunicano che a giudicare dalle loro condizioni fisiche e dalla loro temperatura corporea non sarebbero sopravvissuti un'altra notte in mare dopo questa terribile esperienza entrambi Brad e Deborah sono tornati a vivere la loro vita Brad è tornato a vivere nel Massachusetts ed era determinato a ricominciare il più in fretta possibile a navigare tanta stima ragazzi a gennaio di quell'anno in Florida ci sarebbe stata la Southern Ocean Racing Conference che sarebbe una conferenza sulle gare di barcavela insomma a cui Brad sapeva che avrebbe partecipato anche Deborah Brad doveva rivedere Deborah perché voleva dirle una cosa Brad non aveva molti soldi pensate che per andare a questa conferenza ha dormito in una barca vuota lasciata in un parcheggio e il giorno della conferenza Brad vede finalmente Deborah e quando la vede il suo cuore inizia a battere all'impazzata e questo perché amici Brad voleva dichiararsi a lei voleva dirle che la amava ma quando Deborah vede Brad non ha la sua stessa reazione anzi tutto il contrario gli dice che vederlo le faceva tornare in mente tutto l'orrore che avevano passato e non riusciva neanche a stargli vicino Brad ha il cuore infranto ma chiaramente lo accetta e se ne va gli anni passano Brad continua a lavorare sulle barche ripeto tanta stima io non vorrei vederle neanche più da lontano mentre Deborah anche lei continua ad andare in barca ma lei fa anche molti discorsi pubblici partecipa a molti programmi tv parlando della sua esperienza programmi del calibro di Larry King e scrive anche un libro sulla sua storia di sopravvivenza Deborah si trasferisce a Madfield nel Massachusetts si sposa e fa dei figli ma nel 2009 un'altra tragedia colpisce la sua vita perché suo figlio che andava anche lui in barca come sua madre purtroppo ha un incidente e annega e solo tre anni più tardi purtroppo anche lei muore anche Deborah muore all'età di soli 54 anni Brad racconta di aver saputo della sua morte attraverso un amico e non sapeva neanche cosa dire era deluso era amareggiato dalla vita cioè la vita era stata veramente ingiusta con Deborah e Brad racconta anche di non sapere come sia morta infatti nell'elogio funebre non c'è nessuna causa della morte anche online non si trova non si trova nulla ma dice di aver sentito delle voci di alcuni familiari che dicevano che Deborah si sia tolta la vita Brad crede che Deborah fosse ancora attormentata da quell'esperienza in mare e ovviamente a questo si era aggiunta la morte di suo figlio e credo che da quello nessuno l'ha potuta salvare cioè nessuno l'ha potuta salvare da se stessa Brad a quel punto quindi rimaneva l'unico superstite della tragedia dello yacht Trashman diversi anni dopo la figlia che era rimasta di Deborah ha contattato Brad e ha voluto che lui avesse una cosa di sua madre praticamente la scialuppa il gommone su cui loro erano rimasti per cinque giorni in mare era stato poi recuperato dalle acque e Deborah si era portata a casa un pezzettino si era portata a casa una corda di metallo esattamente la corda che Brad aveva usato il primo giorno vi ricordate quando si erano messi tutti sotto al gommone e lui aveva fatto passare la corda da un lato all'altro per appunto sdraiarsi sopra ecco quella corda Deborah se l'era portata a casa l'aveva arrotolata e l'aveva incorniciata e l'aveva tenuta con sé per tutti quegli anni ecco sua figlia ha voluto che Brad l'avesse queste amici sono tutte le informazioni che ho su questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già fatemi sapere se volete sentire altre storie di sopravvivenza così che ogni tanto io vi possa raccontare qualcosa di un po' più positivo tra virgolette anche se questo caso non era molto positivo ma comunque c'è stato un sopravvissuto un sopravvissuto ad una storia veramente assurda e come al solito amici io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao ciao